Questo bandierone, e si applausi signori, la sua adesso vi sentono. E questa era la voce di Valentina che vi salutava direttamente a voi, generosissimo pubblico. Quindi, di nuovo, speriamo di avervi appunto regalato una bella emozione e di venerci sicuramente un giro per le prossime manifestazioni. Adesso il numero, la sezione della Circe stacca e cominceremo con gli amici della Pui Circe. Non vi allontanate che adesso cominciano... Grazie. 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 Grazie.